Parliamo del sesto forum che si è concluso a Roma, Quale Energia? Quest'anno ha visto la presenza del ministro Orlando, ma a te ho parlato. Si è chiuso oggi il sesto forum nazionale Quale Energia? Un punto d'incontro tra imprenditori, scienziati e ambientalisti per dare una risposta al fabbisogno energetico, con la cosiddetta green economy che, a sentire gli addetti ai lavori, gode di buona salute. Ritengo che ci sia molto spazio per investire nel nostro paese, nella green economy. C'è una filiera italiana molto promettente che sta investendo in Italia in impianti di produzione di fonte rinnovabile, ma anche in componentistica. Sono aziende anche di piccole e medie dimensioni che stanno diventando leader mondiali. Quindi la filiera, la green economy, è una concreta realtà e non una moda come alcuni cercano di sostenere. I relatori parlano però di concorrenza sleale con le fonti fossili che hanno ricevuto nel 2013 12 miliardi di euro tra sussidi diretti e indiretti. E su questo ha risposto il ministro Orlando, che ha partecipato all'incontro. Credo che dobbiamo progressivamente ridurre l'incentivazione al fossile, perché tutte le indicazioni internazionali, le direttive europee, spingono in questa direzione. I stessi cambiamenti ambientali ci ricordano che c'è un'esigenza di cambiare strada e continuare appunto a incentivare il modo relativamente meno costoso di produrre energia è credo un errore che dobbiamo correggere progressivamente.